ciao benvenuti a tutti in questo nuovo video con la mia spalla in maga barbaria qui abbiamo una fantastica croce sulle pianezze oggi giornata molto grigia sta nevicando da un'ora e mezza praticamente da quando siamo partiti e non da tregua quindi veramente scendiamo subitissimo perché fa freddo siamo partiti quindi dalle pianezze sopra valdo biadene in un'ora e mezza per il sentiero 10 08 in le 8 siamo saliti qui posto bellissimo prima neve dell'anno ciaspole quasi superfluo e ma buona visione ciao 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 si comunque non ve l'ho neanche detto ma oggi abbiamo qui la mia principessa no l'abbiamo lasciata in giro ok vai ciao 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 ok giù alle mie spalle abbiamo il parcheggio quindi siamo praticamente arrivati dalle pianezze la parte mia e della valle per oggi è tutto vi ringraziamo gli stati con noi e ci vediamo alla prossima vi ricordo di iscrivervi al canale ciao statemi bene